Agli agricoltori che hanno protestato animatamente questo lunedì a Bruxelles, l'Unione Europea risponde con un pacchetto di aiuti da mezzo miliardo di euro. Il provvedimento è stato illustrato dal vicepresidente della Commissione, Jirki Katainen, a margine del Consiglio straordinario dei Ministri dell'Agricoltura. La proposta odierna della Commissione è una risposta significativa, veloce e concreta alla situazione attuale. 500 milioni di euro sono una somma vera che dovrebbe aiutare gli agricoltori a produrre cibo in maniera sostenibile per coloro che apprezzano il buon cibo. La protesta di 7.000 persone, con quasi 1.500 trattori davanti alle istituzioni europee, ha paralizzato il quartiere comunitario di Bruxelles. Negli scontri tra dimostranti e polizia, tre agenti sono rimasti feriti. La protesta di 7.000 persone, con quasi 1.500 trattori davanti alle istituzioni europee.